E' un altro telefono! Brutto bambino! Tu ti tieni sta persa qui! Capito? E' un'area vecchio di tanti anni fa! Inizierò la scuola e quindi avrò veramente pochissimo tempo per registrare non so se continuerò ci saranno tanti video Premettiamo che non volevo abbandonare youtube per così tanto tempo da quanto cazzo è che non entro che non faccio un video per youtube per serico Il mio video è stato cancevo per me la risposta della mia vita e la mia vita di un po' di esami, la mia vita di un po' di esami finito in generale, era il motivo per il quale io sono qui adesso per questa risposta della mia vita Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.